Ciao! Vediamo come si può procedere per creare un personaggio da animare. Cominciamo semplice. Prima di tutto sarà meglio prepararsi uno schizzo. In questo caso magari voglio fare un gatto. Si comincia sempre disegnando come se avessi una matita in mano. Approfitto del fatto che il primo strumento è la matita e comincio a disegnare oltre a usare la gomma posso comunque anche andare a cambiare le cose in edit mode e aggiustare un po' il disegno. Allora se questo è lo schizzo finora l'ho disegnato sul livello lines. Questo lo chiamo livello sketch. Ora devo fare il disegno della parte finita, creerò un nuovo livello e lo chiamo linee. Userò magari lo strumento ink pen. Il materiale facciamo appunto linee. Allora quando devo disegnare qualcosa per animare devo anche decidere come spezzarlo, in quali parti ed è meglio che ognuna appartenga ad un livello diverso. In questo momento sto facendo le linee però magari mi preoccupo intanto di fare le linee del corpo. Immaginiamo di voler spostare prima o poi le zampe o le orecchie. Devo fare il corpo completo se voglio poter spostare le zampe. Quindi qui tra l'altro mi è utile in edit mode vado a nascondere lo sketch questa modalità di selezione che mi permette di selezionare i punti che sporgono dopo essersi toccati di cancellare quella parte e aggiustare, ripristino lo sketch. Quindi se questo fosse il corpo perché io voglio spostare le zampe è meglio quindi che queste siano quindi diciamo per esempio corpo linee se faccio le zampe le faccio ora su un altro livello quindi creo un nuovo livello qua e lo chiamo zampa destra linee e ora vado a fare la zampa destra. Ora la zampa destra è sovrapposta le linee ci sono però nel momento in cui vado a fare i colori vedrete che il colore della zampa coprirà la linea del corpo e sarà importante comunque che ci sia sotto perché appunto quando l'esposto si deve poter vedere. ci sono delle scorciatoie da tastiera il tasto Y permette di cambiare il livello senza andare ogni volta laggiù e quindi per esempio ora posso fare con il più fin da subito magari il livello zampa sinistra linee e ora disegno su zampa sinistra linee l'altra zampa e mi ricordo anche di tracciarla fin da sopra per aiutarmi posso nascondere momentaneamente la zampa destra siccome comincia ad esserci confusione facciamo anche i riempimenti quindi tra i materiali riutilizzo solid fill e lo chiamo corpo e magari invece di un grigio prendiamo un bel arancio allegro da gatto arancione nascondo momentaneamente le zampe nascondo lo sketch e su creo un nuovo livello corpo colore per sicurezza diciamo divido su un altro livello prendo fill clicco e riempio e mi assicuro però che corpo linee si trovi al di sopra di corpo colore in maniera tale che vedete la differenza quando è sotto copre le linee quando è sopra le linee lo coprono e quindi ora per esempio vedo zampa sinistra e zampa destra in questo modo è chiaro che se nascondo questi due adesso dovrò creare il riempimento anche per la zampa sinistra e per la zampa destra e quindi di nuovo livello zampa sinistra colore e poi creo subito l'altro livello zampa destra colore allargo un po' per leggere bene zampa destra colore finirà sotto zampa destra questo finirà lì sotto momentaneamente nascondo il colore del corpo sempre per poter disegnare bene la zampa sinistra è quella probabilmente sotto e quindi altra scorciatore da tastiera la U permette di selezionare il materiale sono su zampa sinistra colore non voglio riempire ma voglio disegnare perché qui in questo caso riempimento non mi aiuterebbe perché la zampa di sopra è aperta quindi ecco questa magari è la zampa sinistra e poi mi sposto su zampa destra colore e riempio la zampa destra ora quando ripristino il corpo vedete non si vede la differenza però il vantaggio è che io potrò in qualsiasi momento spostare se nascondo le zampe vedete il corpo sotto è completo quindi ora con questo criterio finisco anche tutto il resto magari lo sketch è il caso di metterlo sopra a tutto quanto e lo blocco così diciamo non riesco se vado in edit mode non lo seleziono e andiamo magari anche ad aggiungere un nuovo materiale per il corpo quindi un secondo colore riparto da questo lo duplico facciamo corpo chiaro perché magari voglio utilizzare anche un colore più chiaro e molto meno saturo quasi un bianco per fare i calzini delle zampe quindi adesso vado su zampa sinistra e aggiungo un calzino a zampa sinistra vediamo un po' i livelli si ah l'ho messo su linee ho detto sbagliato devo mettermi su zampa sinistra colore e poi su zampa destra colore vedete è un po' tedioso perché bisogna un attimo stare attenti a cosa si sta facendo tutto dipende anche da come penserò di animare il personaggio quindi ora con lo stesso metodo vado a fare la coda preparo fin da subito coda linee e coda colore li metto al posto giusto saranno sotto il corpo quindi quindi coda colore e coda linee ora su coda linee materiale linee vado a disegnare inizio da più in dentro così sono sicuro posso anche usare il riempimento adesso quindi sotto coda colore uso il riempi con il materiale del corpo faccio il riempimento e ora vado a fare anche i pezzettini in più quindi se questo era corpo chiaro creo un nuovo materiale riparto da corpo chiaro lo duplico e facciamo corpo scuro poi in realtà anzi facciamo che queste sono le strisce pesco il colore del corpo e lo scurisco magari lo faccio un po' più rosso ecco e ora con questo materiale assicurandomi sempre di essere quindi con il materiale corpo strisce e in coda colore vado a fare non con lo strumento riempi ma con lo strumento disegna le orecchie per esempio potrebbero appartenere al corpo oppure no a seconda che le voglia animare ora mi sposto con y mi sposto su corpo colore e uso questo colore ammettiamo di non voler animare le orecchie posso disegnare sul livello delle linee del corpo anche le orecchie quindi ora con linee e su corpo colore corpo vado su corpo linee vado in edit mode e uso appunto questo modo di selezione per vedete selezionare queste linee e cancellare points e scompaiono questi segni che avevo disegnato e ora posso sempre su corpo colore con il corpo chiaro posso disegnare questo quindi vedete ogni cosa che disegnate viene posizionata sopra diciamo potrei zoomare e trovarmi un po' meglio posso sempre nascondere lo sketch per vedere il risultato finito ecco questo è un classico caso di cosette da aggiustare questo punto lo posso cancellare e anche questo lo cancello qui c'è un segnetto su corpo linee questo punto qua questo probabilmente eccolo un po' più in su vediamo cosa manca manca il volto in quel caso invece voglio diciamo di nuovo separarlo quindi creo volto linee ora lo sketch praticamente non mi serve più e avrò bisogno di un layer volto colore materiale questo e uso il fill per riempire qui e manca un materiale per il naso lo creo nuovo io lo creo sempre partendo da qualcosa che ho già perché lo trovo più facile mi assicuro di essere su layer giusto e ora ho creato questo personaggio ma l'ho anche diviso in layer che mi renderanno più facile l'animazione continuiamo ad aggiungere elementi nelle prossime lezioni per adesso grazie e alla prossima grazie